Da un emisfero all'altro... Wow! Su cielo la cucina fa il giro del mondo. Voglio essere un MasterChef. La sfida all'ultimo piatto... Deve essere tutto perfetto. Si accende. Chi non regge la pressione è fuori. Se nella mia cucina qualcuno facesse un piatto così, lo butterei. È tremendo. Troncato. L'unico. È impresentabile. L'originale. La consistenza della carne è impeccabile. Inizia lo show! MasterChef Australia. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì dalle 14.30 su cielo.